Hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto. Questa mattina, verso le 10, alcuni lavoratori del consorzio di bonifica sono saliti sul tetto della Galleria Vittoria e hanno minacciato di gettarsi nel vuoto per protestare contro la mancanza degli stipendi. Le spettanze maturate e non corrisposte a loro dire sarebbero quelle degli ultimi 18 mesi. Nella settimana scorsa c'è stato anche un incontro in regione per una riqualificazione professionale. Riqualificazione che non ha soddisfatto i lavoratori che hanno anche bloccato la Galleria con caos e disagi nella viabilità in tutta la zona. Uno di loro addirittura ha cercato di tagliarsi le vene. Ecco cosa ci ha detto negli attimi concitati ai nostri microfoni. Stamattina un gesto estremo si è tagliato le braccia. Perché? Non ce la faccio più. Perché i debiti sono molti. Si stanno prendendo nelle nostre abitazioni. Da 18 mesi che non ci pagano. Stiamo lavorando tutti i giorni sui siti avvelenati e nessuno si prende la responsabilità dei politici. E loro rubano un milione e un milione di euro. Non ce la facciamo più. Siamo 860 famiglie. Ci hanno mandato allo sbaraglio. lavorando tutti i giorni senza pagare. Perché stamattina ho ricevuto una lettera da Milano che si vogliono prendere la casa. Hanno miso la mia casa all'asta. Pagata per 12 anni. Tutti i mesi. E non ce la facciamo più.